C'è una novità nel mulino, solo farina integrale, zucchero di canna, miele e un gusto unico per i nuovi biscotti buongrano. 100% farina integrale, 100% buoni. Scoprili subito nei punti vendita Coop. Mulino Bianco, un mondo buono. Eccoci, eccoci qua pronti per la fase pomeridiana di Molecola Coop Race, la sfida dei carelli della spesa. Oggi siamo a Dalbenga, centro commerciale SR e adesso andremo subito a conoscere le nuove due squadre. Allora, siamo pronti, scopriamo i nomi delle due squadre. La vostra squadra come si chiama? Milan. Milan. Il tuo nome? Kevin. E il tuo? Jesus. Allora, Milan contro? Di qua? Imbattibili. Imbattibili. Il tuo nome? Mattia. Mattia e? Thomas. Mattia e Thomas. Milan contro gli Imbattibili. Perfetto, allora siamo quasi pronti per cominciare, ma prima volevamo ringraziare il nostro top sponsor, Barilla Mulino Bianco, presente già dallo scorso anno alla nostra Molecola Coop Race. Ad esempio, abbiamo qui Buongrano, ottimi biscotti, troviamo anche i chicchi di cioccolato. Abbiamo fatto, per esempio, sui nostri scaffali e siamo quasi pronti. Allora, si parte al mio via, 3, 2, 1, via! Ecco il pronto, le due lattine partono, vanno a cercare il prodotto selfie, i rossi sono più veloci, i blu un po' più lenti, ma cercano di recuperare. Pronto il telefono. E i rossi partono insieme al blu, si va alla ricerca dei primi prodotti, attenzione, si parte, primi scaffali. Vediamo, si appaiono i due carrelli, pronte già le molecole nel carrello, si avanza velocemente. Prova del cucchiaio, si rallenta un po' qui, attenzione, si perde troppi secondi, è qua. Cerchiamo di avanzare, attenzione, rossi, il carrello, eh, portiamo avanti il carrello, facendo attenzione a non far cadere l'ovetto. Sino in fondo è caduto, peccato, erano quasi arrivati, invece i blu sono un po' più lenti, ma l'ovetto è ancora lì, sul cucchiaio. Ricerca dei prodotti frenetica, rossi, dove andate? Dove andate, rossi? Dai! Dov'è la lista? Dai, allora! Diciamo che è caduto anche l'ovetto per i blu, che si avvicinano alla prova della piramide. Ancora qualche prodotto. Avanziamo, ecco i blu. I blu ci sono, sono alla piramide. Invece i rossi sembrano un po' persi. Stanno raccogliendo qualcosa da per terra, mentre il carrello vola via. La lattina rossa ha abbandonato il carrello, che sta scappando da solo. La lattina rossa deve essere soccorsa, perché non ce la fa più rialzarsi. Ecco che risbuca la testa, perfetto. Ok, la lattina rossa ha ripreso il carrello. Veloci che dovete poi arrivare ancora alla prova della piramide, ragazzi. Ok, i blu sono già più avanti, i blu sono già alla prova del canestro, che mancano. No, peccato, il vento non ha aiutato. Diamo i rossi, ecco i rossi si sono ripresi, ripartono. Sono già a metà, si riappaiono più o meno con i blu. Anche qua il canestro non va per i rossi. Tornano indietro i blu, tornano indietro, perdono per secondi preziosi forse, vedremo. Cercano l'aceto ponti i blu, ma rinunciano e vanno avanti. I rossi sono ripartiti, secchi adesso. Siamo quasi sul rettilineo finale, prima dello slalom, al buio. Attenzione, sollevamento pesi. Si inclinano le due molecole. Quella rossa fa cadere tutto, ma non importa. Ci sono un po' di difficoltà nel tirare sui pesi. Ecco, ecco i blu partono, velocissimi. E dieci, e giù. Giulio Satesi parte al buio per lo slalom. Mi raccomando, dai le indicazioni, eh. I rossi sono un po' più lenti, ma anche loro stanno facendo i pesi. Cercano di prendere il buon grano. Munino bianco. E i blu ci sono. I blu sono arrivati. Aspettiamo i rossi, che partono nello slalom. Sagoma toccata. La seconda sagoma è salva e arrivano al traguardo. Adesso la gara è finita. Aspettiamo il punteggio e vedremo chi è stato il più bravo tra poco. Zucchero di canna, miele e un gusto unico per i nuovi biscotti buon grano. 100% farina integrale. 100% buoni. Scoprili subito nei punti vendita cop. Mulino bianco. Un mondo buono. Eccoci tornati. Venite, venite. Voi eravate squadra blu? Squadra Milan? Come vi chiamate? Jesus. Kevin. Ok, come è andata questa gara? Cosa è stata la cosa più difficile? Trovare le cose della spesa. Trovare le cose, sicuramente. Sì, smistate. Allora non erano solo posti. Eh, certo, perché non potevamo metterveli tutti lì di fila. Anche canestro. Eh, canestro, la pallina non era facile. Vediamo chi arriva anche l'altra squadra. Venite di qua, ragazzi. Vediamo anche i vostri nomi. Mattia. Thomas. La squadra era? Imbattibili. Imbattibili, vedremo se siete stati imbattibili. E aspettiamo ancora un attimo il punteggio. Sì, ancora un secondo. Ok. Per voi invece, sì, siete voi. Quale è stata la cosa più difficile per voi? Eh. Eh. La pallina, la pallina. La pallina perché era troppo lontano. Poi c'era un po' di vento, la pallina leggera. Non era facile, giusto? Va bene. Quando hai perso la scarpa è stato un bel momento. Va bene. Allora, vediamo se sono pronti. Ok, ci siamo. Sì, con i punteggi. Allora, per la squadra rossa che ha avuto qualche difficoltà. 247. E invece vince la squadra blu con? 207. 207, vince la squadra blu. Complimenti, stretta di mano fra tutti e quattro. Un po' di sportività, morecola con praise. Bravissimi. Aspettate un attimo che adesso vediamo la borsa omaggio con tutti i nostri prodotti. Arriva il nostro Swan. Eccolo qua. Prendete pure. È stata una bella gara. Tra poco un'altra. Bravissimi. Noi invece... Ciao ciao. E noi invece ci vediamo tra poco con la prossima mancia di Molecola Coop Race. C'è una novità nel mulino. Solo farina integrale. Zucchero di canna. Miele. E un gusto unico per i nuovi biscotti buongrano. 100% farina integrale. 100% buoni. Scoprili subito nei punti vendita Coop. Mulino bianco. Un mondo buono. A presto. Grazie a tutti.